Aveva solo 26 anni Simone Furci, il ragazzo deceduto in un incidente stradale a Ioppolo, piccolo borgo costiero della provincia di Vibo Valencia. La vittima si trovava a bordo della sua autovettura, una Fiat Punto, quando per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere violentemente contro il muro di recinzione di un campeggio in via San Bruno Melia, lungo la strada comunale che porta la frazione Oliveto al capoluogo. Inutili si sono rivelati i tentativi di soccorso del personale del 118, allertato dal titolare della struttura ricettiva, svegliato alle 5.45 dal rumore dello scontro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per accertare la dinamica e i vigili del fuoco. Il giovane da qualche tempo era rientrato a Ioppolo dopo aver vissuto con i genitori originari del paese del Vibonese, in provincia di Varese, e dove svolgeva l'attività di panettiere in località Monteporo.